Assessore Malerba, oggi il Comune è stato molto chiaro dopo la vittoria nei play-off del Varese, domenica contro la Sarremese, qui è stato appunto il play-off della Serie D. Lei e il sindaco Davide Gallimberti avete detto, aspettiamo il Varese per parlare dei progetti, della prossima stagione, quello che eventualmente ci sarà da fare per affrontare la strada del ripescaggio. Beh, intanto complimenti, complimenti ancora alla società e alla squadra che ha ottenuto davvero un risultato prestigioso. Noi siamo a disposizione, aspettiamo che ci dicano quando, settimana prossima, quando vogliono, per parlare con l'impresidente e con la proprietà di quelli che sono i progetti sportivi e quello che è il futuro dell'impianto che abbiamo. Siamo a loro disposizione, è chiaro che bisogna sedersi intorno a un tavolo e in maniera seria definire, ripeto, progetti con la proprietà e con il presidente, progetti e futuro dello stadio.